L'opera nasce dalla nostra consapevolezza che solo un cambio di prospettiva può aprire nuovi orizzonti e generare opportunità. Partendo dall'osservazione critica sull'assorbimento passivo dei saperi, il percorso di conoscenza, arricchito da nuovi stimoli e ormai libero da condizionamenti, può raggiungere il suo completamento mediante l'interconnessione osomatica tra potenziale umano e realtà, ispirando mutamente. La costruzione della tavola si incentra sull'elemento umano che si apre all'esterno arricchito dalle intenzioni offerte dall'universo artistico. L'osservatore diventa in questo modo parte integrante del processo edilizioni, portando in un processo condiviso le sue risposte personali.